eccoci qua ragazzi buongiorno l'ultimo buongiorno dell'anno e che anno di merda mamma mia davvero ragazzi giallo rossa arancione verde semafori si è fatto strega mangia colori si è fatto ogni cosa si è fatto di tutto si è fatto di tutto quest'anno si è fatto di tutto ma non si è fatto un cazzo non si è fatto proprio nulla perché ci hanno bloccato vabbè ragazzi questo è l'ultimo giorno dell'anno si va a lavorare io volevo appunto ringraziare tutti l'unica cosa di buono appunto c'è stato sono stati i nostri piccoli le nostre piccole soddisfazioni i nostri piccoli viaggi con i nostri camper almeno bello finché si è potuto poi dopo ci hanno rinchiuso e si è fatto una sega non si è fatto eh vabbè oh prometto non taglio nulla eh porca puttana fu a diritto guarda lo mette a diritto sto video porca miseria video copia incolla e via carico il video su youtube oggi non voglio ripetermi a tagliare i video a fare perfezionare il video no ma mettiamolo meglio tanto guarda se gli è di merda l'anno gli è di merda è stato di merda l'ultimo video deve essere di merda ma chi se ne frega ma chi se ne frega eh nulla io volevo appunto ringraziare appunto sempre tutti i nuovi iscritti c'è stata una marea di iscritti quest'anno davvero sono davvero felice eh spero di non deludervi di continuare così di fare nuovi lavori quando ero finito rismonto ogni cosa ah ah ne denti col cavolo no 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 ci sarà sempre qualcosa da da caricare su youtube quello sicuramente eh ragazzi che dire non è stato un anno grandioso anzi è stato davvero un anno di merda davvero eh speriamo che finisca male ma che i miei amici sempre male vabbè comunque dai speriamo che poi il 2021 sia migliore mettiamo la voce mettiamo la voce oh non vi stabilizzò nemmeno eh non vi stabilizzò nemmeno eh voi si appiccicati hai il cuscotto hai il vetro della macchina anziché se vuoi tremare le brecche c'è le buche eh vabbè oh ragazzi che vi dico eh vi faccio tanti auguri io volevo ringraziare davvero sempre un'altra volta l'avrò detto tre o quattro volte ringrazio tutti è stato l'anno di merda però comunque conosciuto davvero delle fantastiche persone questi datuni eh Bologna Parma l'estate due belli datuni stupendi eh è stato davvero raro dei 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 buoni momenti io mi auguro di aver finito l'anno diciamo in bellezza che l'anno migliore porti novità cose belle e non tutti sti colori arancione giallo e rosso perché vabbè ero di cazzo quello sì c'è un monte di polizia oggi ragazzi c'è un monte ma l'anno bello è fermato una porta l'anno bello è fermato dove tu vai allora l'anno andrò porca miseria dove tu vai puoi lavorare puoi lavorare c'è un monte di pattugli bello tre pattugli oggi ragazzi oggi mi raccomando stai usi in casa perché stavolta vi beccano sono cazzi sono cazzi gli fanno un bel culo una bella multa ragazzi basta per le quattro minuti per le ho fatto due coglioni eppure non ho detto una sega ragazzi vi auguro un buon fine anno e che è un anno migliore per tutti camperisti e non e andiamo a lavorare tanti tanti auguri ciao belli alla prossima buona il prossimo anno mi raccomando vi aspetto